È un momento interessantissimo di elaborazione, di confronto da tutta una serie di organizzazioni che in città si occupano da sempre di cultura. È uscito fuori questo primo cartellone che, come abbiamo detto in conferenza stampa, è un cartellone che verrà poi implementato perché noi ci aspettiamo ancora bellissime sorprese durante questo periodo delle feste a cavallo tra Natale e Capodanno. Pino, questo vostro progetto quest'anno è veramente un esempio importante, è un momento particolare per la nostra città perché noi non abbiamo avuto mai la capacità di fare rete e voi ci siete riuscivi. Questa è la cosa forse più importante, al di là di quelle che sono le organizzazioni, la festa, che sono cose importanti per la gente. Però è da un anno che stiamo lavorando sull'unità, sul fare rete, lanciato dal nostro mondo, dal mondo del sociale. Però piano piano stiamo cercando di allargare anche il mondo profit, alle imprese. Quindi noi dobbiamo stare insieme. Dobbiamo stare insieme, profit e no profit, per migliorare la qualità della vita della nostra gente. Il form con il CSV ci sta provando. I numeri ci dicono che la strada è quella giusta, la gente ha voglia di partecipare, ha voglia di stare insieme. Come vedete abbiamo organizzato delle feste senza spendere soldi, senza finanziamenti. Ognuno ha messo un po'. Una volta nelle vie si faceva così, si organizzava, ognuno si faceva festa nella via con poco. Questo è l'esempio che a Crotone c'è tanta gente invece che ha voglia di riscattarsi e di ricominciare una nuova vita. Lucia, diciamo che questo sistema che state mettendo in campo per il mese di dicembre e di gennaio è un sistema che darà soddisfazione in particolar modo ai crotonesi. Sicuramente, cercheremo di fare il possibile per soddisfare tutti i crotonesi, quindi dalla primissima infanzia ai giovani giovanissimi di una certa età. Quindi è questo l'obiettivo, di non lasciare nessuno escluso ed essere tutti inclusi e tutti partecipi in maniera fattiva e propositiva per il nostro territorio. Concerti, spettacoli, campagne di sensibilizzazione, insomma c'è di tutto e ne avevamo proprio bisogno. Sì, proprio per questo abbiamo cercato di fare più incontri e che ognuno dei protagonisti potesse esprimere liberalmente quello che avrebbe voluto dare e poter dare, quindi senza prevericare assolutamente nessuno. E però poi abbiamo fatto una scaletta perché potessero essere diversificati tutti gli incontri e messi in maniera tale che tutti potessero avere una vetrina importante, perché il potente è il nostro territorio, in questo momento specialmente che ce l'abbiamo un pochino acciaccato.